Amici, ci siete? Sì, 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 sì C'è un problema Ok, un altro problema Aspetta, ma intanto questo qui dove cavolo era quando siete venuti a salvarmi? È rimasta a casa perché non aveva armi Esatto E lasciatelo lì, dai Era lui inizia senza la pistola Calmi, calmi, calmi Allora, ragazzi, guardate cosa è in mano Cos'è? Una chiave? Non è una chiave, è la chiave Ok È quella chiave che ci apre per andare al portone Ok E come accidenti l'hai trovata? Allora, l'ultima volta che sono andata a rubare il mio perviste Aspettate un attimo Questo qua torna all'improvviso, cioè è stato rapito Poi torna qua e magicamente trova la chiave Anche a me puzza un po' Per quello volevo sentire la sua teoria, Steph Vabbè, vabbè Allora, allora Allora, al posto di imparare Sai che io potrei ottenermi questa chiave, sparire, andare in quel posto, andare Ma guarda, se vuoi andare vai pure, almeno scopriamo se ci si muore Infatti, se poi torni vivo Vabbè, ci faccio col pestino Ciao Mark, dove stai andando? Cosa stai combinando? Ma cos'è sto bunker? Io non ho scoperto la parola Allora Vai Piegaci In pratica, in un bunker dove sono andato a rubare l'ultima volta Dove ho trovato la pista di tutto quanto Ok Sono tornato lì Ok E c'era un signore con una tuta completamente tutta radioattiva sporca di verde Ok E in pratica ci ho parlato E mi hanno detto che sono andato a rubare l'interno del suo bunker Ok Non io, proprio altre persone Ok Ma questo lo ruba chiunque, poveretto Quindi ci sono altri ladri? Ci sono altri ladri, ma il fatto che gli hanno griffato completamente la base per cercare la chiave che lui aveva rubato a queste persone Ma che trip, raga Ma ci sono anche persone normali, sotto a terra, sono tutti ladri Fatemi capire Infatti, i ladri Tutti criminali Tutti criminali Faczi come te, Steph Io sono normalissimo Vabbè, pare che tu mi abbia rubato una pistola Io sono normalissimo Io sono Oh, calmatevi tutti qui Oh, calvi tutti qua Stiamo appuntando tutti, Steph Sbaglio Dovremmo collaborare un attimino Ascolta Facciamo una prova Io colpisco Marco e anche tu, Steph Ok Pronti Perché? Perché pure può caldo? Che mi ha pure sparato, va bene Torna qua Continua a raccontarci la tua storia inutile, vai Vabbè, comunque ho parlato con questo sicuro Raga, ha la freccia complicata in testa Dovevo ascoltare Ti prego, puoi picchiarlo Vasta, Steph Se la raccontesse Marci, sta storia, ascolterei Il problema è che Marci Dai, stavo finito di raccontare Quindi è successo un trip di rubato che ha rubato che ha rubato Sì, vabbè, comunque c'è una chiave Che al mercato mio padre comprò, vai Eh, c'è una chiave Comunque posso scegliere solo tre persone Quindi due persone Quindi Ferri e Marci Tu rimani a casa Allora Io scusa, non ho capito La prima domanda è Togliamo l'imbecille Che dice cose che non hanno senso E sappiamo tutti che la chiave apre Basta Esatto La mia domanda è Come puoi essere sicuro Che apre davvero quel portale lì? Dici che è una trappola per... Non lo so Potrebbe, non lo so Allora, una trappola per portarci lì Non credo perché non c'è nessuno lì Quindi non mi sembra pericoloso Però mi sembra strano che tra tutte le cose che si dovevano aprire in quella base Lui ha la chiave proprio per aprire il portone Non lo so Io mi sono fidato di questo signore Non lo so Allora Ma ti ha detto anche qualche informazione di cosa c'è dietro il portone? Mi ha detto che c'è una dimensione pericolosissima Dimensione? Soltanto questa cosa Una dimensione? Cioè, mi ha detto che hanno studiato praticamente una dimensione pericolosa Lui doveva andare perché ha rubato questa chiave Ok Ma poi le hanno porto via qualunque oggetto E quindi non può andarci Con cui poteva muoversi Ok Quindi non ha più nulla con cui andarci Ok E questo è il problema Allora, facciamo così Prendiamo per buono che funzioni davvero questa chiave Speriamo E prepariamoci per un viaggio in un'altra dimensione Il discorso è Se non parlano di nether Devo pensare che sia qualcosa di strano Esatto Quindi dobbiamo prepararci un botto di cibo Un botto di materiali Tutto quello che riusciamo ad ottenere Dobbiamo ottenerlo E prepararci per questo viaggio Ok Il fatto che non parla neanche di nether Quindi è proprio un'altra dimensione Sì, sì, sì Quindi non sappiamo come ci si può sopravvivere Non lo so, è molto strano Secondo me Ok Dobbiamo portarci Lucas Lucas? Perché Lucas? In qualunque dimensione Lucas sarà il nostro agricoltore Con tutte le cose che potremmo prendere Tipo le torce No, no, io penso che Lucas sia molto importante Ma poi dobbiamo equipaggiare pure lui, Steph Ci vogliono un sacco di materiali No, no, vedi che Lucas è così Rimane così Se rimane così va bene Perché non gli diamo niente E scoprirà come coltivare nelle dimensioni nuove Cioè, secondo me è una buona soluzione Lucas è davvero il campioncino degli agricoltori È veramente bravi Guardate quanto cibo c'è Cioè, è un campione Non c'è altro da dire Comunque ragazzi Noi andiamo a prepararci un po' di equipaggiamento E ci vediamo quando siamo tutti pronti Per andare in questa fantomatica dimensione Non gli pare No, no, no Gli fa crescere le cose con la volmiele Quindi c'è lui che prende Prende veloce Ma c'è veramente crurele È cattivo A dopo ragazzi A dopo Allora, io direi In primis Prendiamo un bel po' di grano Un bel po' di patate E vediamo di sistemare le cose Conta che io ho già 50 patate cotte Ok Perché io le prendo sempre dalla cassa di Lucas Se le metto a cuocere Quindi comunque sono piena Però Ferre, fai questo ragionamento Facciamo finta che finiamo in una dimensione E usa il mondo reale come esempio Ok Se finissimo ad esempio nel deserto Non avremmo più modo di trovare cibo Nel senso il cibo nel deserto sarebbe pochissimo Esatto Come trovare l'acqua sarebbe quasi impossibile Quindi dobbiamo avere veramente tanto, tanto, tanto di tutto Secondo me È la cosa migliore Allora, io metto a cuocere 32 patate in 4 fornaci Per fare 2 stack di patate cotte Che secondo me è una buona idea Dopodiché mi metto a craftare tantissimo pane E in ambito di cibo penso che saremo abbastanza a posto Magari facciamo anche un po' di bistecche Beh, guarda che qui ci sono comunque delle bistecche Un po' il letto cotto da cucinare Ci sono le uova che le possiamo portare eventualmente Le uova le possiamo portare nel caso per ottenere dei polli Esatto, quello volevo dire Assolutamente Quindi otteniamo le tante Ci sono anche dei semi di barbabietole Ok Anzi no, solo le barbabietole Dobbiamo procurarci dei semi di tutto, Steph È importantissimo È vero, è vero, è vero, è vero Allora Ho anche un po' di patate crude Che così le possiamo ripiantare Ok E le lascio così, non le cuocio Allora Prenderne altra un attimino Anche le stringhe Tengo due stacche pronte Tanto comunque abbiamo anche alberelli Ok, quindi mi sembra che potrebbe bastare in questo modo Poi, vediamo un po' di patate qui Poi, vediamo un pochino Ok, va bene Ok, va bene Le barbabietole, Feren, ne faremo meno In avanzo Che temo che non abbiamo Perché le abbiamo utilizzate tutti per farci le armature Sto controllando un attimino da marci Ah, questo potrebbe essere un problema Ci sta Ovviamente prendiamoci almeno del ferro Che quello è sicuramente sensato Sì, assolutamente Te lo volevo dire Prendi un sacco di ferro Tutto quello che abbiamo Ok Io questa ammolo qui Io me la porto la tuta, Steph Non si sa mai, dai Allora Ti devo dire Alla fine poi rischi Allora, ho un sacco di cosi inutili nell'inventario Aspetta che le levo Tipo le butto qui dentro Io volevo andare a riempire il mio secchiello d'acqua Noi non abbiamo una fonte infinita di acqua qua Eh, forse l'ultima Non ce n'era una infinita Non l'avevamo creata Sì, quella da quattro Questa è infinita Eh, esatto Sì, 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 vai Vai, vai, prendi, prendi Ok, allora è tutto a posto Ok, acqua ne ho Tu hai altri secchielli d'acqua, giusto? Uno, pieno Ok, quindi abbiamo due secchielli d'acqua Che ci permette di creare una fonte infinita Di conseguenza non ce ne serve altro Io ho quattro da sedici di uova Quindi per forza almeno due polli uscirebbero Tu hai i semini Abbiamo le patate crude per cuocerle Io ho le patate già cotte Anzi, le patate crude per pianterle Ho gli alberelli Siamo pieni di legna Siamo pieni di cobblestone Abbiamo due stack di ferro Guarda, ci mancano i diamanti, francamente Sì, sì, sì Non so se andare a cercarne al volo Vuoi andare? Eh, forse sì Allora, sto pensando Ti ricordi che avevamo trovato Quella strada molto interessante Seguimi, seguimi, seguimi Ok, ti seguo Potrebbe essere una buona idea Allora, a parte che qui no, non ce ne sono Però questa spada in diamante è un po' messa meglio della mia Vedi, non abbiamo anche carbone Un'altra cosa veramente importante Vero, perché in effetti l'abbiamo usato tutto per cuocere Ti dicevo, ti ricordi il fossato qua? Potrebbe essere una buona idea Eh, però ci devi riuscire a scendere Allora Qua comunque è pieno di carbone, eh, qui intorno Potremmo fare una cosa molto interessante Fare in questo modo Facciamo così E ci creiamo una discesina Tanto l'acqua ci abbiamo infinita Quindi la rifaccio dopo Allora, dobbiamo stare attenti perché Ovviamente l'acqua sta ancora scendendo Non vorrei schiattare Ok, vai Possiamo scendere Piano piano, piano piano ci si riega Zombie Pef, ti ho detto pieno piano Ti ho visto lanciarti Va bene, ero sicuro Eccoci qui Ok Allora, lapis, redstone Allora, mi sa che c'è già passato Marci Quindi secondo me I diamanti sono già stati prosciugati Però Facciamo un po' di esplorazione E vediamo se troviamo qualcosa A parte che Ovviamente mi prendo quest'acqua Così la recuperiamo subito Sì, guarda carbone Io lo inizio a prendere Vai Ok Iniziamo a prendere C'è tantissimo Ovviamente non ci manca per nulla Il ferro ragazzi Evito di prenderlo Non ce ne facciamo niente Secondo me Da queste parti Sto cercando di trovare delle zone Non esplorate da Marci Secondo me sarà una bella imprenda Sì, 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 sì Quello è un minatore provetto Ovviamente Si mette a esplorare tutto Guarda, guarda No, vabbè Non troverò mai dei diamanti Io ero tutto contento Ho detto C'è quella zona Ne troviamo facilmente Col cavolo È tutta piena di torce Quindi tutto esploratissimo Ok Potrebbe essere Allora Verso lì vedo solo lapis Lì non ha messo Però ho blocchi Sì, vai Utilizzo questi ad esempio Ok Allora Uno Poi Sono caduto Va bene Vado dall'altra parte Va proprio come un salame Fere Capita, non ti preoccupare Allora io sto prendendo un'infinità di carbone Steph Quindi almeno io sto facendo il mio dovere Ok Tanto comunque Spera di trovare dei diamanti Eh Eh, zitto però Non mi risponde Io ci spero poco ormai Perché se è davvero tutto esplorato Tutto a posto Se è davvero tutto esplorato È abbastanza difficile Vedete, anche qua Una grotta interessante Però è tutto pieno di torce Ma magari non è che ne ammarci Di diamanti Non lo so Allora Vediamo qui Sai che forse ho trovato una zona Che lui non ha toccato Davvero? Forse sì Allora sto seguendo la strada Così vediamo se ti trovo Sì Voglio andare qui sopra Dai, dai Magari riusciamo a trovare Questa zona non ha torce Ragazzi Potrei trovare dei diamanti Non so se siamo abbastanza in basso Secondo te Sì Siamo abbastanza in basso Non lo so Dovresti controllare Io non ho un'idea Eh, perché qua si sta tenendo a risalire Non mi piace questa cosa Cerca di risalire Però riandando in basso Qualcosa del genere Devo cercare Qualche altra zona Che ancora non ha esplorato Secondo me qua Andiamo in zone veramente inutili Questo è chiuso Ok Potrei scendere Tipo da qua Tipo vediamo questa zona Ma è pieno di cavernine Steph Qualcosa lo dobbiamo trovare per forza Ma Marce è incredibile infatti È pieno È enorme questo posto Ha fatto veramente Qualsiasi posto ti viene in mente Oh Questa zona è interessante Ferre Ferre Troverò qualcosa È una promessa Dai Steph È una promessa la mia Allora Da queste parti Vediamo se c'è ancora lava Sembra di no Davvero Così poca ce n'era impossibile Vediamo qui Eccola qui Andiamo da questa parte allora Ok Ok Diamantini Come sta andando? Ho trovato un'altra zona con le torce Io non ho parole Ti ho esplorato tutto il mondo comunque Ma proprio qualsiasi cosa esistente In questo mondo Ma non è possibile Probabilmente non esistono più diamanti In tutto Minecraft Ferre Marce è una roba incredibile Ha prosciugato tutto Per carità Sono contento che sia il nostro minatore Sì beh Comunque Steph Li abbiamo usati Non dico tutti Ma a buona parte Per prendere la mappa Per il famoso laboratorio Quindi C'è da dire che è anche normale Che non ne trovi in giro Perché lì ne sono serviti davvero tanti Quindi ha dovuto minare Come un disperato Per trovarli Soprattutto per colpa della mappa Di quel tipo Che ha fatto un prezzo Eh quello sto dicendo Sto dicendo La mappa del laboratorio Steph Eh ma anche tutte le armature Eh un sacco di diamanti Poi sì l'armatura per tutti Cioè alla fine inizia a diventare tanto Uh Tensione Non è male questa zona Allora lì è tutto buio Quindi Anzi no Forse no Non mi dico No sì è solo la lava Che illumina Perché così magari è una zona non esplorata Capito Sto cercando anch'io zone non esplorate Io ho trovato un'altra zona di redstone Ok Adesso Sento dell'acqua Zombie Se fosse dell'acqua Qui non è arrivato Marci Questa sarebbe una zona Veramente interessante Per trovare i diamanti Vediamo qui Aspettate che metto Qualche torcia Qua e là Ogni tanto poi vedo della luce Mi inganna Dico magari su torcia Invece poi è lava Eh lo so Vediamo qui Eh ma no Ho trovato un'altra torcia Ma dai Ma è impossibile trovare una zona non esplorata Te l'ho detto È una roba incredibile Questa però è una zona non esplorata È tutta buia Quindi Cos'era? Un creeper che è esploso Potrebbe essere Ma da te? Ah ma ti sto raggiungendo Alla fine ho fatto un giro enorme Ma ti vedo Eh infatti Perché ho sentito troppo alto quel volume Immaginavo Vedo la tua scritta Quindi alla fine sto facendo tutto un giro Questa allora non è esplorata Confermo Però innanzitutto è piena di creeper Che continuano a esplodere È piena di Enderman È piena di niente Perché non c'è nulla Solo un pochino d'oro Ferro e cose classiche così Quindi brutte notizie Carbone ce ne guardo Davvero a volontà Ci puoi riempire i secchielli Ah io ho preso sei di oro Che comunque io non butto Ok ma che ce ne facciamo? Per fare mele d'oro Vabbè quello sì Vabbè anche quelle sono utili No vabbè ho ritratto e torce Raga non c'è modo Di trovare altri diamanti Dobbiamo chiederli a Marci Chiedere a Marci Non è possibile Va oltre Lui la conosce molto meglio di noi Questa miniera Adesso non so manco Come tornare a casa Allora Secondo me Era questa la zona Perché va verso l'alto Però non mi sembra Dove ho messo io l'acqua Cioè deve essere L'altra parte di tunnel Forse qua Che mi sfugge E quindi non lo sto ritrovando Altrimenti ecco Forse qua Forse qua Forse mi sono ritrovato la strada Eccomi qua Ferre non hai speranze Te lo dico No infatti Se mi sono un po' perso io Oh creeper Cosa vuoi? Vieni qua Pupino di mostri Non si può esplorare In santa pace Nonostante ci siano le torce Sbucano da tutti i posti Guarda Ho notato anche io Ho notato anche io Perfetto Almeno Steph torna a casa Ferre l'abbiamo persa Prima ancora di andare Nella dimensione A scoprire Che cosa troveremo Ferre ti farò Delle foto Mandamole sul cellulare Steph Sì Povera Ferre Oh No 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 Non riesco a risalire Aspettate Ok ce l'ho fatta Perfetto Torno a casa Casa nostra è da questo lato Giusto? Sì Ok sono tornato Quindi facendo un recap Di tutte le cose che Mi sono preso Tra l'altro dovrebbero essere pronte Altre patate Quindi le andiamo ad acchiappare Tutte E prendiamo anche Tutto il carbone avanzato Per arrivare a 64 Con le patate Abbiamo tre stack Raga Siamo messi divinamente Prendiamo anche queste bistecche Dato che le hanno lasciate qua Abbiamo Vediamo un po' Due stack Di legna Una stack Di cobblestone Quattro Di uova Due di pane Quasi tre Di patate cotte E una Di alberi E altri 21 Di birchie normali Leggermente di bombier Per far crescere Se ne avremo bisogno Un po' di oro Torce Comunque picconi Tre di diamante Per fare almeno Un altro piccone di diamante Che è comunque Una cosa importante Una pistola Con un po' Di colpi La spada messa bene L'armatura messa ancora Abbastanza bene Uno di acqua Ferre Un altro di acqua Secondo me Siamo pronti Dai Abbiamo un sacco di roba Comunque Cioè Non stiamo andando a mani vuote Su Esattamente Io inizio A percorrere la strada Mi fermo qua E nel prossimo episodio Scopriremo Qual è la dimensione Che ci aspetta Cosa dovremo fare Come dovremo affrontarli E se riusciremo In qualche modo A sopravvivere Ragazzi Ci fermiamo così Sono troppo curioso Di vedere cosa ci sarà In quella dimensione Ma ormai manca poco Quindi scopriremo a breve Se sarà una dimensione Bella Brutta Perché la logica sarebbe Che siamo andati a vivere In un posto migliore Di dove siamo adesso Ovvero sotto terra Perché il mondo È pieno di radiazioni Si spera Non si sa mai Anche perché Questi scienziati Infatti non sono più tornati Quindi o era bellissimo O era bruttissimo Alle vie di mezzo Non ci sono Altrimenti sarebbero tornati Anche indietro Qui sotto come sempre Con bei altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 ciao